Alla dodicesima edizione del Sartirana Textile Show, fino al 18 settembre, sarà visibile una inedita mostra collaterale di tappeti antichi turmeni, esemplari rari e particolari provenienti da importanti collezioni private. Una edizione editoriale di due volumi propone una nuova prospettiva per lo studio e l'analisi di questi preziosi tappeti, un evento sicuramente eccezionale per amatori e collezionisti di di tappeti antichi turmeni, una nuova prospettiva per lo studio e una nuova prospettiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.